Ha raccolto molti consensi la mostra Matite di guerra, satira e propaganda in Europa 1914-1918, allestita a Palazzo Lascaris a Torino. Per dare a un maggior numero di persone la possibilità di vedere da vicino disegni e vignette d'epoca sulla Prima Guerra Mondiale, la mostra, promossa dalla Consulta Europea, curata dal vignettista turinese Dino Aloy, è stata prorogata fino a venerdì 16 gennaio.